Sindaco, è un po' un'emozione anche per lei rivedere il derby, dopo 15 anni vi parla da sindaco insomma? Sì, assolutamente sì e poi se ci riflettiamo ci sono almeno due generazioni di tifosi che non hanno mai visto e assistito ovviamente al derby quindi è un'occasione unica ecco perché dobbiamo pensare a questa giornata come una giornata di festa, una giornata di sport per quello che è il derby più importante non solo della provincia di Teramo ma uno dei derby più sentiti d'Abruzzo ed è l'occasione appunto per dimostrare la maturità, la capacità di gestire ovviamente una partita così importante seppur in un campionato minore rispetto ai derby storici del passato con una maturità che appartiene ovviamente alle istituzioni, alle società e a tutti i tifosi che vivranno e devono vivere quella giornata come una giornata di festa ecco perché l'iniziativa del prefetto di oggi è un'iniziativa assolutamente opportuna ed è stata l'occasione per un confronto istituzionale sereno che ovviamente sarà seguito dai cosiddetti tavoli tecnici ma la lavoreremo in questi giorni affinché appunto si possano creare condizioni per vivere questa giornata di festa nel modo più gioioso possibile soprattutto per i ragazzi che per la prima volta vivono nella loro vita appunto l'esperienza del derby grazie